Tantissima gente, difficile dire quanta, di sicuro migliaia di persone. Nel fine settimana il Centro Storico di Ardesio è stato letteralmente preso d'assalto per la settima edizione del Festival degli Artisti di Strada Come d'Incanto a cura della Proloco con la Direzione Artistica di Teatro Minimo. Un successo che ha sorpreso gli stessi organizzatori. Assolutamente, oltre ogni previsione, quello che abbiamo potuto vedere in questi due giorni a Come d'Incanto. La prima cosa che ha premiato lo sforzo degli organizzatori è stato il tempo perché davvero nonostante le previsioni non rose anche per la giornata di domenica il tempo ci ha graziato, il sole è stato presente, c'era il sole ad Ardesio e questa è la prima novità perché quando la Proloco di Ardesio fa qualcosa muove un tavolo, arriva il diluvio universale. Invece questa volta ci ha risparmiato e quindi siamo già al 90% per quello che può essere un'organizzazione. Naturalmente poi i nostri sforzi sono stati premiati dalla gente, la gente del paese e la gente di tanti paesi limitrofi che sono voluti venire ad Ardesio a vedere il Festival. Ho visto tanta gente chiedendo così anche dalla Vallimagna, dalla Val Brembana, dalla Val Camonica e questo vuol dire davvero che anche questo evento inizia a farsi sentire e inizia a piacere. Era la settima edizione, era partito un po' in sordina nel 2010, nato per portare un evento per bambini, per famiglie nel panorama della programmazione della Proloco di Ardesio. Apre la stagione estiva 2016, l'ha aperta nel migliore dei modi e naturalmente grande l'impegno dei ragazzi del gruppo, i ragazzi del gruppo che davvero si sono dati da fare in una maniera incredibile, incomiabile e un applauso va a tutti loro ma soprattutto a tre figure importanti, voglio citarle perché davvero hanno preso in mano questo spettacolo e questo festival che sono la Miki, l'Antonella e Umberto Zanoletti ancora una volta, organizzazione al top e naturalmente con uno staff del genere è difficile sbagliare. Poi naturalmente speriamo che alla gente sia piaciuto quello che hanno potuto vedere perché non è semplice colpire e lasciare il segno nel panorama diciamo di tutti perché a uno può piacere una cosa, a uno un'altra. Loro sono riusciti a organizzare un bel mix di spettacoli e la soddisfazione la vedevo anche negli occhi dei bambini, della gente quindi dovremmo avercela fatta anche questa volta. 13 gli artisti che si sono esibiti quest'anno, clown, giocolieri, musicisti, acrobati, maghi, cenere insomma per tutti i gusti. Ogni spettacolo è stato capace a modo suo di sorprendere ed emozionare e come spesso accade con gli artisti di strada non sono mancati fuori programma. Uno di questi ha coinvolto anche noi di Antenna 2. Noi! Grazie a tutti. Grazie.